Amici di Football is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua per fare il diario della tredicesima giornata del campionato di Serie A. Video che esce con un po' di ritardo, però questi sono giorni veramente pienissimi. Mi sto preparando per l'esame di Stato che farò tra circa un paio di settimane. Comunque, fatta questa premessa, iniziamo un po' a vedere l'ultimo turno di Serie A. Una giornata sostanziosa, tre partite di cartello, un Napoli che continua a vincere, sempre primo in classifica. Napoli che vincendo a Bergamo ha superato il primo dei tre step che avevo detto settimana scorsa. Primo era vincere a Bergamo, secondo arrivare alla sosta dei mondiali con sei punti di vantaggio sulla seconda. Terzo, the last but not the least. Dimostrare di aver fatto quel salto di qualità dal punto di vista mentale a febbraio-marzo. Iniziamo appunto dal Napoli. Atalanta-Napoli 1-2. Una buona partita. Primo tempo soprattutto giocato su ritmi sostenuti. Un'Atalanta che è partita forte. Pressing, intensità, non faceva ragionare i partenopei. Dea che va in vantaggio con un rigore di Lukman, ma il Napoli non demorde. Anzi, riesce subito a pareggiarla con Ozyman per poi ribaltarla nel giro di una decina di minuti con un bel gol di Elmas. Secondo tempo poi i ritmi calano. L'Atalanta attacca a una doppia occasione. Prima parata di Meret su Vele e poi traversa sempre di Lukman, mi sembra. Un Napoli nella seconda frazione più guardingo, ma che comunque stringe i denti e porta a casa questa importantissima vittoria. Una partita che ai punti sarebbe finita in pareggio. L'Atalanta non ha assolutamente demeritato, però il Napoli dal canto suo ha fatto un'ottima figura. Ha vinto una partita su un campo difficile in rimonta senza Kvaraschelia. E poi, altra cosa, ho visto sempre una squadra lucida. Una squadra sul pezzo che quando palleggiava lo faceva con tranquillità. Tra le fila dei partenopei comunque, Meret è stato determinante con delle parate. Bene la difesa, Oliveira ha salvato un paio di gol. Kim, come al solito, attento, ben posizionato, insuperabile nell'uno contro uno. Mi è piaciuto poi anche il centrocampo, tonico e ben organizzato che ha vinto il duello contro quello atalantino. Elmas segna un bel gol. Ozyman, gol e assist. Un Ozyman parecchio sul pezzo nell'ultimo periodo, devo dire. L'unico, un pochino in ombra, Lozano. Quindi un Napoli che vince. Sempre primo in classifica. Primo step superato. Vediamo un po' adesso come vanno le ultime due partite. E poi, a febbraio-marzo, arriva la parte più bella. Arriva la parte più difficile. Che ci dirà davvero se i partenopei sono la favorita per vincere lo Scudetto. Dietro al Napoli torna secondo il Milan. Milan che vince 2-1 in casa contro lo Spezia. Bene i tre punti, prestazione un po' meno. Una vittoria sudata da parte dei rossoneri. Partita che la squadra di Pioli sia complicata da sola. Non per merite dello Spezia che ha giocato una partita assolutamente normale. Una partita da squadra che lotta per non retrocedere. Comunque sia, un primo tempo in cui ho visto anche un buon Milan. Un po' impreciso negli ultimi metri, sì. Però comunque ha colpito due traverse. E' andato in vantaggio con un gran gol di Teo Hernandez. Un bel inserimento d'attaccante vero. Poi però, nel secondo tempo, ma anche alla fine del primo, ho iniziato a vedere un Milan superficiale. Una squadra che commetteva diversi errori. Ha rivitalizzato gli avversari. Spezia che infatti pareggia con un gol di Daniel Maldini. Sì, so che fa un po' sorridere. Ma poi nel finale il Milan torna in vantaggio e vince la partita grazie ad una zampata di Giroud su un bel cross di Tonali. Una partita in cui nel Milan ho visto difficoltà centrocampo. Si sentiva l'inferiorità numerica. Se non adoperi un centrocampo a tre in queste occasioni, se non passi ad un 4-3-3, 4-3-2-1 in casa contro lo Spezia, quando lo provi. Teo Hernandez, gran gol, l'ho già detto prima. Ben Nasser ha fornito l'assist. Leao, irritante, come se non ci fosse in campo. Buon impatto sulla gara di Tonali, che ha fornito l'assist per il gol di Giroud. Giroud, gran gol sì, ma allo stesso tempo pirla per essersi tolto la maglia ed essere quindi espulso. Comunque sia, tre punti dovevano essere. Tre punti sono stati. Un Milan non brillantissimo, però nell'arco della stagione ti capitano anche partite di questo tipo. Il Milan l'ha vinta e ha fatto il suo dovere, anche meritatamente, pur non avendo giocato una partita grandiosa. Terzo in classifica, dietro Napoli e Milan, troviamo la Lazio. Lazio che vince 1-0 il derby della capitale contro la Roma. Una partita maschia, combattuta, spezzettata, tecnicamente non bellissima. Una Lazio che vince da squadra concreta, sfruttando un erroraccio della difesa dei giallorossi. Lazio che gioca una partita di contenimento, attenta e solida in fase difensiva. Bene la coppia di difensori Romagnoli-Casale. A centrocampo buono schermo di Vessino e Cataldi. Bravo poi anche Sarri a impostare la partita in questo modo. Possiamo dire una Lazio che ha vinto alla Murigno. Dall'altra parte una Roma che aveva iniziato benino la partita, poi però una qualvolta è andata in svantaggio, non ha creato dei veri pericoli per la porta avversaria, a parte la traversa di Zaniolo. Una partita che poteva durare fino al 7200, però la Roma non avrebbe mai pareggiato. Anzi, nel finale, a 10 minuti dalla fine, secondo me è andata più vicino al gol la Lazio con quel contropiede di Cancellieri. Comunque sia, rimanendo sulla Roma, Roma che più la vedo giocare, più secondo me adopera uno schema sbagliato. 3-4-2-1 che non esalta i giocatori, Terzini che spingono poco, a centrocampo manca uno che costruisce, Tammy Ebram tanto criticato, non segna, è un dato di fatto, non si può negare, due gol in 13 partite sono davvero pochissimi, però non è neanche messo nelle condizioni di far bene e lo vedi giocare diverse volte a centrocampo. Poi, derby d'Italia, Juventus-Inter 2-0, una partitaccia tra due squadracce, partita che non risolve i problemi della Juve e conferma come non siano stati risolti i problemi dell'Inter nonostante il passaggio del turno in Champions. Premo tempo, soprattutto, sembrava una partita di Serie B, ritmi bassissimi, occasioni pochissime, quelle poche nate da cross, squadre speculative, vero movimenti senza palla, in fase di non possesso, a cavallo dei due tempi, cresce un pochino l'Inter, ma passare in vantaggio è la Juventus con Rabiot, dopo un cost-to-cost di Kostic dalla sua metà campo. Gol di Rabiot, in cui c'è la colpa dei due difensori dell'Inter che si sono fatti infilare, ma anche Barella, che non ha speso l'ammunizione per fermare Kostic, non è che sia propriamente incolpevole. Dopo il gol preso, l'Inter attacca, ma attacca alla rinfusa, senza grinta, senza carattere. La Juve stringe i denti, si arrocca in difesa e con un'altra azione di contropiede segna il gol del 2-0. Ancora assist di Kostic e questa volta gol con un bel inserimento del giovane Fagioli. La Juve ha avuto il merito di colpire alla prima occasione, dopodiché è andata sull'entusiasmo, però, ripeto, è una partita che non risolve i suoi problemi. La Juve in questa partita ha avuto il merito di colpire alla prima occasione. Poi è andata sull'entusiasmo, però è una gara che non risolve i suoi problemi. Non ho capito tanto la sostituzione di Milik. Dolce Gabbana avrà anche rotto le palle, però l'Inter ha un allenatore ancora più scemo, che non sa trasmettere carattere alla squadra, non ha palle, non ha grinta, aspetta il settantesimo per fare i cambi, che poi, cambi che non ero neanche così tanto d'accordo, perché ha tolto Di Marco e Mkhitaryan, che secondo me erano due dei meno peggio in campo in quel momento. In ogni caso, per quanto riguarda la Juventus, MVP della partita assolutamente Kostic, che nel secondo tempo ha letteralmente devastato la gara, due assist, colpisce un palo, bene la difesa, Danilo, ma soprattutto Bremer, Fagioli segna il gol del 2-0, Fagioli che prima del gol, non dico che non mi stesse piacendo, però lo vedevo un po' timidino, non stava facendo niente di che, dopo che ha segnato il gol del 2-0, l'ho visto invece un po' più disinvolto. È comunque un giocatore giovane, un giocatore che ha una buona tecnica, ha più entusiasmo dei giocatori titolari, e per questo motivo per lui è anche più facile emergere in questo momento. Tra le altre poi, il mio Sassuolo perde 1-0 sul campo dell'Empoli, uno dei peggiori Sassuolo degli ultimi tre anni. Una squadra bassa, lenta, compassata, inibita a centrocampo dai ragazzi del dottor Paolo Zanetti. Si sentiva l'assenza di Laurentier, che con le sue serpentine crea scompiglio nelle difese avversarie, ma l'assenza di Laurentier è un aggravante, perché se senza di lui non riesci a creare pericoli, dimostri di essere dipendente dallo stesso giocatore. Un Sassuolo che ha fatto due mezzi tiri in porta oltre il novantesimo, prima con Arrui e poi il colpo di testa di Alvarez, terminato fuori di poco. Non ho capito la mossa di Dionisi, di togliere Traoré per mettere Kyriacopoulos quando la partita era sullo 0-0, non so che cazzo dovevi difendere contro una squadra più debole di te, e poi altra cosa, perché Alvarez deve giocare sempre 20 minuti. Questa partita qua, vista l'assenza di Laurentier, era l'occasione giusta per fare un 4-3-1-2, Traoré trequartista dietro alle due punte Alvarez-Pinamonti. In ogni caso, per il proseguo della stagione non sono così pessimista, il Sassuolo finora non è del tutto giudicabile, perché non abbiamo mai avuto a disposizione tutta la squadra, però in questa partita veramente io non riesco a salvare nessuno. L'Udinese poi continua il suo momento di frenata, 1-1 in casa contro Lecce, primo tempo meglio i pugliesi, avanti con Colombo, ma colpiscono anche due pali, nel secondo tempo poi i Friulani riescono a pareggiare con Beto, di cuore, di inerzia, poi possono anche vincerla, ma alla fine arriva questo pareggio, un risultato che comunque ci sta. Udinese in calo sì, però per quelli che secondo me sono i suoi obiettivi, ovvero arrivare nella parte sinistra della classifica, è una squadra che al momento è difficilmente criticabile. Bene poi la Fiorentina che vince 2-0 in casa di una derelitta Sampdoria, Viola che con questa vittoria sommata a quella di settimana scorsa contro lo Spezia e alle E2 nella Coppa dei Puffi sta cercando di avere un po' di continuità, buona vittoria anche del Monza, 2-0 in casa contro l'Ellas Verona, unica nota dolente, anzi molto dolente per la squadra di Palladino, è l'ennesimo infortunio di Stefano Sensi. Per il Verona invece è l'ottava sconfitta consecutiva, la quarta con Bocchetti, segno evidente che il problema non fosse l'allenatore. Io, Cioffi, non l'avrei mandato a casa, il problema è che in estate hai letteralmente disfatto la squadra. Verona che poi, tra l'altro, dopo questa sconfitta si trova da solo all'ultimo posto in classifica. Vince poi anche il Bologna, 2-1 in rimonta contro il Torino, terza vittoria di fila per la squadra di Tiagomotta che va un pochino su in classifica e poi pareggio 2-2 tra Salernitana e Cremonese. Botta e risposta tra queste due squadre. Per la Salernitana non è una gran bella cosa farsi rimontare due volte che sei andata in vantaggio, però comunque rimane in una buona posizione di classifica. Per la Cremonese invece, se si vuole guardare il bicchiere mezzo pieno, ha guadagnato un punticino su alcune delle dirette concorrenti. Quelle sopra vanno un po' meno a rilento di lei, e quindi solo per questo può essere tenuta lì con qualche speranza. Però voglio dire, 13 giornate di campionato non hai ancora vinto una partita. Non è che sia proprio un gran bel segno per i Grigiorossi. Va bene ragazzi, questo è stato il diario dell'ultima giornata di Serie A. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io come al solito vi invito a iscrivervi al canale YouTube, a seguirmi su Facebook, a seguirmi su Instagram, a lasciare un commento, a lasciarmi piace, a spammare questo video in ogni singolo punto del planisfero. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!